Il lei comune di Partinico vuole contestare l'atto Palermo 1 per le nuove tariffe applicate su rifiuti nel 2014 e vuole invece riferirsi a quelle del 2013 così come deve difendersi dalla citazione in giudizio della ditta New Service a cui aveva affidato il servizio di gestione delle strisce blu. Secondo il gruppo consigliare Cambiamo Partinico non ha senso contestare il pieno finanziario del lato Palermo 1 del 2014 per rifarsi a quello del 2013. Per due motivi, entrambi sono stati completamente disattesi e la maggior parte dei servizi che il lato negli anni ha puntualmente fatturato come la raccolta differenziata, la pulizia delle strade o delle caditoie, il lavaggio dei cassonetti, la raccolta dei rifiuti soliti urbani giornaliera non sono mai stati effettuati. Il piano finanziario del 2013 a cui l'aggiunta di Partinico vuole rifarsi prevedeva un costo del servizio di 5 milioni e mezzo di euro, costi completamente falsi se si confrontano ai servizi forniti dal lato e che per di più vengono addirittura superati dalle fatture che il lato ha inviato che ammontano a 6 milioni e mezzo di euro, fatture che se non verranno contestate diventeranno debiti fuori bilancio. Per questi motivi Cambiamo Partinico ha sempre sostenuto con cognizione di causa che l'unico piano a cui si dovrebbe affidare il comune è quello industriale che in maniera puntuale considerava i servizi da effettuare sulla base dei costi reali e più convenienti elaborando l'unico piano finanziario di 3 milioni di euro che il comune di Partinico oggi sarebbe in condizioni di sostenere. La storia riguardante la New Service poi ha del paradossale. Non solo l'amministrazione lo biondo non ha mai contestato la società che gestive i parcheggi a pagamento senza mai versare un centesimo alle casse comunali ricevendo addirittura dei premi che ne aumentavano il fatturato ma addirittura adesso viene citata in giudizio per danni. Secondo il gruppo consigliare Cambiamo Partinico composto da Valentina Speciale e Gianluca Ricupati l'incompetenza dell'amministrazione lo biondo non riguardava però solo le scelte politiche effettuate negli anni come il non voler revocare l'affidamento del servizio dei parcheggi a pagamento su cui il comune ha subito un danno erariale per i mancati incassi e il non voler contestare l'Ato Palermo 1 durante i suoi anni di amministrazione abbandonando la città al totale degrado e alle continue emergenze sanitarie. L'incompetenza dell'amministrazione si manifesta soprattutto con due delibere di nomina legale approvate e di immediata esecuzione senza avere però la dovuta copertura finanziaria. Ciò in termini pratici si traduce automaticamente nell'ennesimo debito fuori bilancio. Dal 2009 al 2011 l'amministrazione lo biondo ha prodotto 146.000 euro di debiti fuori bilancio per fatture legali. Il gruppo consigliare Cambiamo Partinico ha immediatamente comunicato al segretario generale l'irregolarità dell'atto. Quest'ultimo ha condiviso quanto affermato dal gruppo consigliare e ha comunicato che provvederà alla revoca della deliberazione di cui in oggetto con un nuovo provvedimento contenente anche il parere di regolarità contabile. In questo modo è stato evitato un ulteriore danno che l'amministrazione stava provocando. Una costante purtroppo, quella dei danni per un presunto governo di città che con i suoi anni di cattiva gestione ha abbandonato il paese al totale degrado materiale e culturale.